e vincerò qui in teoria qualcuno vorrebbe non faccio nomi più chiara solo cognomi che io cantassi vincerò vincerò ma voglio dire se noi dobbiamo combattere guarda Tony che ti dice sì ma se noi dobbiamo combattere per gli ascolti io non posso far fuggire la gente che a questo mattino mi dice ancora stai calmo dove vai? non potrei mai comunque è il momento dedicato ai conservatori musicali italiani lo spazio mi sta andando Anna Grande primo applauso conservatori a confronto un momento di spettacolo dedicato alla musica classica sì e quindi anche aria di opere famose che conosceremo grazie ai virtuosismi dei nostri ragazzi allora con noi oggi c'è il conservatorio di Adria Rovigo siete voi e il conservatorio di Lecce è giusto? iniziamo a conoscere i rappresentanti del conservatorio Antonio Buzzolla di Adria tu sei la portavoce? Anna Maria ti chiami giusto? ci presentate il vostro trio? allora noi siamo il trio Fiati Clover del conservatorio di musica di Adria io sono Anna Maria Tarozzo e suono il clarinetto abbiamo Andrea Trombina al fagotto e Alessia Babetto al flauto sentite e ci dici qualche curiosità sul vostro conservatorio? il nostro conservatorio è intitolato al musicista ottocentesco adriese Antonio Buzzolla Antonio Buzzolla era un contemporaneo di Giuseppe Verdi pur non avendo avuto insomma la stessa notorietà senti che cosa ci farete ascoltare oggi? noi eseguiremo una trascrizione di una serenata che sicuramente tutti riconoscerete che è l'aciderem la mano ebbè tratta dall'opera Il Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart ebbè la Leone la conosce tutte le mattine quando si fa la bat beh voglio dire conservatorio Tito Schippa di Lecce portavoce Anna Anna Romito suono il clarinetto lui è Antonio De Santis e suono il fagotto lei è Raffaella Palumbo e suono il clarinetto siamo il salentrio fra l'altro anche voi Tito Schippa in questo caso più fortunato dell'ombra che non vive sotto l'ombra di Giuseppe Verdi sì infatti il nostro conservatore è intitolato a lui che è uno dei più celebri tenori di grazia più famosi dell'opera italiana diciamo tenori di? di grazia che cosa vuol dire tecnicamente tenori di grazia? è praticamente sicuramente una particolarità della voce grazie anche voi combattete ad armi pari non solo per i fagotti e la composizione come dire due donne e un uomo ma anche perché avete scelto Mozart sì abbiamo scelto un brano originale per questa formazione ed è il divertimento numero 3 K439B anche questo Miriam allora posso lanciarlo come la fila diffusione? tu lo sai che io ho lavorato anche per la fila diffusione? quanti anni fa Tiberio vuoi dircelo? allora mi hai parlato qualche altra domanda? vieni che loro devono esibirsi sono emozionati infatti è finito le domande al tuo trio Tiberio? allora esibizione del trio del conservatorio di Adia voi potete accomodarvi da questa parte prepararvi mentre io vi presento che guarda che gli annunciatori di Sassalutra vi stanno aspettando al barco dai che esegue la trascrizione di La ci darem la mano di Wolfgang Amadeus Mozart grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.